Ciao a tutti e tutte, bentornati con i nostri videocommenti, io sono Giacomo Lini, sono uno dei commentatori di questo video e a farmi compagnia, come sempre, in contumacia primo, c'è Luca Sauvo. Ciao Luca, come va? Tutto bene? Ciao, ciao, ciao a tutti i nostri spettatori, anche se tutto bene, dai te? Sì, sì, tutto a posto. Dico, in contumacia primo no, perché non ci saremmo stato se ci fosse stato lui, ma ci saremmo stati tutti e tre, ce l'ho fatta a dirlo. Comunque, con le immagini, adesso siamo a una corsa del decennio scorso, fin troppo facile, perché praticamente in questo decennio non si è gareggiato, è il Giro delle Fiandre del 2011. Una corsa che passerà la storia per uno dei più grandi momenti di televisione sportiva italiana, ma questo è un altro discorso, magari troveremo il modo e il momento di parlarne, ma soprattutto una corsa che ha vissuto di un bellissimo svolgimento, uno svolgimento che inizia a essere rilevante proprio da questo momento, perché c'è una foratura, una foratura che coinvolge uno dei corridori favoriti all'inizio della gara, Filippo Gilbert. Oltre a Filippo Gilbert, chi sono i favoriti, Luca? Beh, i favoriti ovviamente sono il favorito numero uno è Fabian Cancellara, che l'anno scorso aveva vinto sia il Fiandre sia la Roubaix, e aveva già vinto il Gran Premio di Arelbeck. Poi Tombonen, Tombonen che ha appena vinto la Gantt Wevelkamp, che era tornata alla domenica, perché fino all'anno prima si svolgeva il mercoledì. Poi abbiamo Gilbert, che è a reduce da due terzi posti, che ha iniziato la grande stagione, ha vinto la Strada Bianca, poi ha vinto anche una bella tappa alla Tirreno Adriatico, davanti a un giovane Wutpoel, davanti anche a Cunigo. E a Di Luca, un Gilbert che farà una stagione a dir poco stellare, e poi abbiamo un nome che era poco considerato al via di quella gara, ma che aveva dimostrato da essere in grandissima forma, vincendo l'Advars d'Orglander, che in quella stagione lì andava anche in onda, in diretta sulla Rai, che è Nick Nuyens, Nick Nuyens che è un corridore, un eterno sottovalutato, diciamo perché è stato anche rallentato in carriera da qualche problema fisico di troppo, però già era arrivato secondo al Giro delle Fiandre del 2009, sì, no del 2010, oddio non mi ricordo più, no del 2008 era arrivato secondo, perché nel 2009 è arrivato secondo Ausler, e mi confondo, no no, nel 2009 è arrivato secondo Ausler, che aveva fatto secondo anche la Sanremo, nel 2008 è arrivato secondo Nuyens, ma un corridore che poi in carriera ha vinto anche il GP di Vallonix, ha vinto la Parigi-Bruxelles, quindi era un corridore veloce, un corridore che quando era davanti alle corse lottava per vincere, e dunque un nome che andava tenuto un po' più in considerazione già alla vigilia di quella gara. In testa alla corsa intanto c'è Sigan Chavanel, compagno di squadra di Tombonen alla Quick Step, corridore che in questo periodo storico poteva anche essere considerato, per certi aspetti la seconda punta della squadra belga, che probabilmente proprio nel biennio 2010-2011 ha vissuto i momenti migliori della sua carriera. Il gruppo principale ora entra nel tratto di Pavedi-Hagöck, mentre tra Chavanel e il gruppo dei favoriti, dei principali favoriti della corsa, c'è un altro gruppo con mi pare Simon Clark e anche Langeveld all'inseguimento, e avviene proprio nel momento in cui Giber rientra nella coda, l'avete visto le immagini all'inizio del tratto di Pavé, arriva l'attacco di Thor Ruzovd. Thor Ruzovd che poteva essere considerato uno, anche lui, dei favoriti della corsa. Aveva fatto particolarmente bene in quegli anni nelle classiche del Nord, era campione del mondo in carica, e in contropiede fa una sciocchezza totale proprio, lo scopriremo dopo, lo vedremo ancora meglio dopo, Tom Bonen, giusto? Sì, Ruzovd era arrivato secondo la Roubaix nel 2009, però appunto lui era più un uomo da Roubaix che un uomo da Fiandri, in verità, qua Bonen ha appunto fatto uno scatto di fogo, uno scatto che non ha un grande senso. Al tempo si diceva che questa mossa di Bonen fosse dovuta un po' al fatto che non volesse far vincere nuovamente un suo compagnolo di squadra dopo i due trionfi di Devolder nel 2008 e nel 2009. Intanto Cancellara, adesso che ha tenuto senza problemi lo scatto di Bonen, rilancia l'azione. Sì, con loro c'è Pozzato, mentre ecco che riprendono Simon Clark sicuramente, forse anche Matthew Hyman, i corridori all'inseguimento di Chanel, li volano letteralmente via su questo tratto di Pavé. L'azione di Cancellara si vede da subito che è estremamente potente, estremamente efficace rispetto appunto allo scatto di Foga, di Tom Bonen, che tra l'altro, lo ripeto, è partito per inseguire un suo compagno di squadra, come giustamente hai fatto notare tu, forse non voleva che vincesse per il terzo anno consecutivo un suo compagno. Parte all'attacco, però non so se pensava di sorprendere Cancellara o cosa, ma se lo porta dietro. Adesso Cancellara è in testa e all'uscita dalla curva Bonen sbaglia leggermente, guardate cosa succede adesso, perché è veramente uno di quei momenti che sono rimasti impressi, penso nella mia, ma anche nella tua memoria. Siamo all'inizio del lever, con una salita piuttosto dura, per giunta arriva dopo un tratto di Pavé. Bonen ha questi 3, 4, 5 metri da chiudere su Cancellara. Beh, noi ricordiamo Cancellara, l'avevamo visto vincere a dare il backhand, se non sbaglio, nel 2010, scattava addirittura in pianura e scrollandosi di ruota Bonen in pianura. In quel biennio lì, era veramente un... era il suo apice, era il più forte Cancellara della carriera e guarda con che facilità si sta levando tutti quanti di ruota. Qui, sì, chiaro, comunque un tratto in salita è un tratto più favorevole a Cancellara, che non ha Bonen, però non è che sia un salitone questo, ma lui ha veramente una forza, ha fatto luoto, cioè è andato... guarda quanto gli ha già preso agli inseguitori. È su un livello superiore rispetto a tutti gli altri. Secondo me è un po' un peccato, adesso se leggo un'altra questione, è un po' un peccato che poi questo Cancellara sia sempre rimasto confinato nel suo orticello, perché insomma, le classiche della Radenne, per uno che, lo ricordiamo, due anni prima era andato fortissimo a Mendrini e potevano essere alla sua portata anche quelle. Poi certo, in quel periodo là, in quella stagione là, ci sarà un Philippe Gilbert in stato di grazia tanto quanto Cancellara, anche un po' di più, ce lo ricordiamo, nella prima tappa del Tour de France che arrivava su uno strappetto che Gilbert andò a riprendere e a staccare Cancellara con un'azione strepitosa. Però appunto, ripeto, vedere questo Cancellara con questa gamba qua che si limita e si è limitato per tutta la carriera a fare solo proprio quelle che erano le gare più adatte a lui senza provare ad uscire un po' dalle sue zone di comfort, per me è anche un po' un peccato. Sì, non hai tutti i torti. Lui si è cimentato proprio nel 2009, mi pare che si è riuscito, oltre che a fare molto bene al Mondiale, ad andare molto forte a Mendriso, un Mondiale molto duro, era riuscito anche a vincere, mi pare, il Giro di Svizzera, chiaro con un percorso particolare che lo facilitava. Comunque parlavamo di un corredore 28enne che aveva raggiunto la maturazione fisica, era un cronoman eccezionale, questo lo è stato per tutta la sua carriera, di fatto fino all'ultimo giorno della sua carriera quando ha vinto le Olimpiadi. Era un cronoman eccezionale, dicevo, ma aveva mostrato anche di avere una certa tenuta in salita, non era il miglior scalatore del mondo, chiaramente doveva difendersi, in quelle occasioni si era difeso piuttosto bene, tanto da riuscire poi a vincere il Tour de Suisse. Poteva per certi versi essere l'apertura verso qualcosa di nuovo, poi non è stato così, se non per quello che riusciva a insinuarsi nel calendario di cancellare, un calendario molto strano, mai partecipato, mi pare, alla due giorni d'apertura con Kurn, Bruxelles, Kurn e Omlopet, Newsblood, la Sanremo la faceva perché sì, la Strada Bianca invece era una corsa che evidentemente gli interessava, infatti l'ha vinta tre volte, la Strada Bianca è una corsa da dislivello chiaramente molto più pronunciato rispetto a queste classiche del Nord, dove oltre a corridori, diciamo così, da pavé, da classiche delle pietre, riescono a primeggiare anche i corridori che vanno forti, che vanno forti nelle classiche delle Ardenne, un pochino più collinari, e chiaramente avendo vinto tre volte fa effettivamente pensare che potesse essere così per cancellare. Lui neanche la Gand Weaver che mi aveva considerato molto al tempo, intanto stavo vedendo i nomi dei corridori che sono con Bonnen, avevo visto che c'era un Greg Van Avermaet, un Greg Van Avermaet, che dopo un paio di stagioni difficili lui era spruito molto giovane, a 23 anni, alla volta del, beh, molto giovane, per gli standard attuali non molto giovane, ma per l'epoca, sì, dai, alla vuelta del 2008, vincendo la Tappa, vincendo la Maglia degli Scalatori. Poi aveva fatto un bienio un po' deludente, quest'anno, nel 2011, era passato alla BMC, però una bella stagione, però un bel Fiandre, ha fatto una bella Sanremo, però una bella Liege, vincerà la Parigi Tours, poi c'è un Leuchemans, che era in palla già a inizio stagione, però ha un corridore che, insomma, si piazza sempre, però vince poco, c'è Pippo Bozzato, che non farà una stagione particolarmente strabitosa, c'è Langeville, che invece ha vinto l'OMLOP at Volk, che all'epoca era ancora at Volk, mi sa, o forse era proprio per il primo anno, at Newsblood, a febbraio, e poi mi sa che c'è anche Flechel, in Maglia Sky. Forse era Buassonaga nel corridore in Maglia Sky, potrei sbagliarlo. Ah, può essere ancora. Vabbè, tornando un attimo su Cancellare, abbiamo infatti zero partenze, sia al Giro di Lombardia, che alla Liege Bastogliege in carriera, è un peccato, perché chiaramente avrebbe potuto ampliare, un pochino di più, i suoi orizzonti su corse più variegate, d'altra parte, con tutto quello che ha ottenuto, nelle corse in cui ha puntato, e non ha puntato già da giovanissimo al Giro delle Fiandre, ha fatto bene in un'edizione nel 2006, ma in quell'anno volava, aveva vinto anche la Paris-Giroubaix quell'anno, poi per un po' di anni ha faticato, fino al 2010, comunque parlavamo già di un corridore pienamente maturo, a 29 anni, quando fece quell'azione clamorosa sul muro di Grandmont, sul mur, per levarsi di ruota tombone. questo è un percorso comunque del Giro delle Fiandre, che mentre Cancellara quasi va a centrare una motocicletta, questo è un percorso del Giro delle Fiandre, dicevo, che è caratterizzato dal fatto che è diverso da quello odierno, questo è il percorso diciamo così classico, la corsa si concludeva a Ninove o Merbe, che è a seconda di quale si consideri la municipalità, poco importante, il finale era caratterizzato dalla doppietta Moore più Bosberg, che adesso è proprio quella caratteristica della Unlopet Newsblood. Sì, era un percorso, è stato l'ultimo anno questo col percorso classico, come l'hai definito tu, era un percorso che a me personalmente piaceva di più, era un percorso che rendeva la gara veramente ricca di colpi di scena, intanto qua ormai Chavanel sta per venire raggiunto da Cancellara, e non sto cercando di capire anche chi c'è qui dietro, dovrebbero essere comunque tutti i nomi che abbiamo fatto prima, Gilbert, che appunto avevamo visto all'inizio della nostra cronaca forare, è ancora più dietro, intanto qua Bonen chiede i cambi a Leu, che manse i compagni. Bonen chiede i cambi, ma io sono il suo primo estimatore, ma qui ha fatto una frittatona, veramente proprio gigantesca in questa corsa, perché ha veramente attaccato in un momento completamente senza senso, in un tratto che precedeva un muro, di fatto stimolando Cancellara in un certo senso, cioè ha causato poi dopo il contrattacco di Cancellara che gli è partito dalla testa, ha fatto Cancellara 5 minuti a tutta e si è elevato tutti quanti di ruota. Forse un'azione più secca, bruciante sarebbe stata meglio per Tom Bonen, però c'è da dire che la mossa tattica che sta proprio alla base della sua azione è insensata, perché il buon Chavanel che si trovava in testa alla corsa con un minuto di vantaggio al momento dell'attacco di Torusov è stato ripreso nel giro di pochi chilometri da Cancellara. E tutto perché? Perché Bonen ha acceso la miccia, solo che poi dopo quando è scoppiata lui si è trovato a non essere sufficientemente distante ed è stato letteralmente investito dall'onda d'urto della mazzata che ha creato Cancellara. Prego. No, credo che l'attacco di Bonen sia soprattutto un attacco d'orgoglio, perché praticamente ovviamente proprio un attacco in sé di Bonen non ha senso. Bonen è più veloce di Cancellara, dovrebbe appiccicarsi alla sua ruota e dirgli bene staccami perché se arriviamo insieme io ti batto in volata, come era stato poi alla Roubaix del 2008. Bonen che attacca così da lontano è in un senso a priori, ancora di più se poi davanti hai uno Chavanel che è un tuo compagno di squadra, comunque è un corridore che costringe gli altri a muoversi. Sì, una cosa che vorrei aggiungere, forse anche dal punto di vista del contesto storico, anche se si parla di dieci anni fa circa, è rilevante. L'anno prima Bonen da Cancellara aveva preso due mazzate veramente notevoli, sia al Fiandre che alla Roubaix. Al Fiandre aveva messo la corsa sull'uno contro uno, mentre ora effettivamente Cancellara si è riportato su Chavanel, dicevo, aveva messo la corsa sull'uno contro uno e poi era stato staccato, demolito nel punto chiave della corsa e alla Roubaix Cancellara gli era scappato e non lo aveva più visto. Dietro intanto stanno richiudendo, stanno ricucendo sul gruppo di Bonen, sotto l'azione di Gilbert che è rimasto tagliato fuori da quell'attacco precedente, probabilmente è proprio a causa della foratura. Sono sicuro che, considerando le gambe, che dimostrerà in questa giornata, in questa stagione, avrebbe avuto le energie per provare almeno a stare con il primo attacco, poi con Cancellara non si sa. Questo non ci è dato sapere. Tu che dici però, anche secondo te c'è un contesto relativo alla rivalità che si era creata, non tanto tra i due personaggi, ma dal punto di vista agonistico tra Bonen e Cancellara in quei due anni e i ceffoni che aveva preso in buona sostanza Bonen da Cancellara. Sì, no, come ho detto appunto, è stata soprattutto una mossa poco ragionata e molto d'orgoglio. Gilbert si è portato per prima ruota dei sei, qui dei sei con Bonen, con subito dietro il buon Nick Nuyens, che lo vediamo lì in maglia Sazzo Bank. Per quanto concerne invece l'azione di Cancellara, cosa sarebbe successo? Se Gilbert non avesse forato, sarebbe sicuramente una sliding doors interessante, perché Cancellara ha staccato Bonen su una salita non in pavè, su una salita breve, non particolarmente dura, sicuramente un terreno più adatto comunque a Gilbert che non a Bonen. Se l'avesse staccato su un muro di pavè, magari nemmeno Gilbert l'avrebbe tenuto. Però io penso che lì Gilbert avrebbe potuto, quelli Gilbert lì, che è un Gilbert in assoluto stato di grazia, avrebbe potuto seguire Cancellara e chiaramente l'azione avrebbe avuto un effetto differente, probabilmente sarebbero andati al traguardo. Intanto nelle prime posizioni vediamo anche Thomas Vauclerc con la maglia di campione di Francia. Ma quello è stato l'anno d'oro di Thomas Vauclerc. Il 2011-2012 sono stati anni in cui era effettivamente molto competitivo, un po' in tutte le corse a cui partecipava. Una mini versione di quello che abbiamo visto, ad esempio l'anno scorso, da parte di Julian Alaphilippe. Dietro inizia adesso un grosso tir e molla nei corridori del gruppo in seguitore. È un gruppo, come vedete, piuttosto nutrito per essere la corsa a 30 chilometri dalla fine del Giro delle Fiandere, cioè non è una circostanza di poco conto. Mentre davanti io faccio notare questo dettaglio, cioè se Bonen non è stato l'uomo squadra ideale nel accodarsi all'azione di Usof e non rilanciare, ma ha effettivamente fatto un altro scatto. Davanti a Chavanel si è visto riprendere da cancellare e penso che gli debba aver detto qualcosa del tipo senti, se vuoi mi porti tu al traguardo, scordati che io ti do una mano perché ho visto cosa è successo l'anno scorso, me lo ricordo benissimo e non ho assolutamente intenzione di cascarci anch'io. Sì, poi Chavanel aveva anche tantissimi chilometri di fuga nelle gambe e nessuno, nessuno in questo momento della gara pensava che Chavanel potesse tenere le ruote di cancellare a tanto lungo, cioè tutti quanti pensavano che al primo muro disponibile si leva di ruota anche e Chavanel va al traguardo, appunto perché avevano negli occhi l'azione devastante del 2010 di quel duello spalla a spalla con Bohanel in cui cancellara letteralmente demolì Tom. Ma io per giunta ricordo un video di questa corsa che avevo visto qualche tempo fa, forse proprio quando stavamo parlando di quali corse seguire, ricordo che nel commento si era avvicinata, cioè c'era il commento della televisione belga che era di fatto con la motostaffetta, con la motocronaca, insomma era andato a intervistare Wilfred Peters, mi pare, all'interno della corsa mentre guidava proprio l'ammiraglia della quickstep, si era avvicinata alla fine dell'intervista l'ammiraglia di un'altra squadra, aveva chiesto qualcosa a Peters e il microfono aveva catturato questa cosa che diceva Peters, proprio diceva qualcosa del tipo che cosa possiamo fare contro questo display di forza che sta mettendo in mostra a cancellare. Guardate che noi adesso siamo qui e chiacchieriamo, abbiamo parlato del percorso, abbiamo parlato dell'errore di questo, di quest'altro, sono 10 km che è pancia a terra, ha guadagnato un minuto su un gruppo dove comunque ci sono stati degli scatti, c'è stata comunque l'accelerazione dietro per ricucire su Tom Bonen, ok, Cancellara è sempre stato un Cronomen formidabile, in questa versione di sé ha fatto letteralmente paura, talmente tanta paura che poi la settimana dopo alla Paris-Giroubaix non è che c'era solo Chavanel che gli correva contro, per così dire, il gruppo intero si è coalizzato contro di lui, tant'è che poi vinse Van Summeren. Sì, sta bevendo tanto però Cancellara, non so se hai notato, ha preso una borraccia, l'ha svuotata e l'ha subito cambiata. Qui abbiamo anche la BMC a blocco, la BMC sarà un fattore più avanti in questa gara, anche se poi non si giocheranno mai la vittoria, però quei loro uomini, loro hanno ballana, hanno incapi, hanno appunto Van Avermaid, quindi sono una squadra veramente ricca di outsider. Sì, Ballan, poi outsider fino a un certo punto era ancora un corridore molto competitivo in questi anni, direi, fino alla caduta al Lombardia che poi dopo ne chiuse la carriera, non penso che sia rientrata dopo la caduta del 2012 dalla colma di Sormano. Comunque era stato sempre molto competitivo al nord, tant'è che appunto nella settimana successiva alla Roubaix fu uno di quelli che effettivamente corse contro Fabian Cancellar. Sì, la squadra qui è a blocco, si sta dimostrando sicuramente il collettivo più organizzato all'inseguimento, però, ripeto, un minuto e un minuto resta, anzi continua ad aumentare dietro, credo che sia quinziato in questo momento letteralmente pancia a terra. Mi sa che li hanno tutti, tutti nel gruppo, tranne uno, perché ne ho visti sette, mi sembra, e all'epoca le squadre dovevano portare otto corridori al via delle classiche. Intanto abbiamo in maglia di campione belga, dovrebbe essere Stinde Wolder che aveva vinto due fiandre nel 2008 e nel 2009. Stinde Wolder che è un corridore che ha vinto poco, però ha vinto... Eh? Lì non ti puoi confondere. Tra 2008 e 2009, come vada, come vada. Beh, comunque, dicevo, De Wolder è un corridore che ha vinto poco, però vinceva sempre le corse ad un certo prestigio, perché ha vinto più di un campionato nazionale, mi sa che ne ha vinti, oddio, forse tre in linea, e poi anche a cronometro, o forse... Adesso non mi ricordo, comunque ha vinto diversi titoli nazionali, ha vinto i due giri delle fiandre, ha vinto anche il giro del Belgio. Qua siamo sul Tembosse, con... Ecco, diciamo che in questa situazione uno dice, ok, adesso Cancellara, stacca Chavaner. Chavaner, comunque, dicevi giusto, te l'anno prima aveva fatto una gran stagione, aveva vinto anche due tappe al Tour de France, aveva vestito anche la maglia gialla. Mentre Cancellara chiama ancora la miraglia, esatto. Non ricordo il dettaglio del perché lo facesse, sarà interessante adesso andare a vedere se chiede ancora una borraccia, perché mi pare che effettivamente non ne abbia una sul porta borracce. Il muro che stanno scalando adesso è il Tembosse. È un muro che... esatto. Dettaglio rilevante che hai notato. Faccio assolutamente i complimenti per questa cosa. Dicevo, il muro che stanno scalando, che stanno affrontando ora, è il Tembosse, che è il muro caro a Yohan Musseu, quello dove ha costruito la maggior parte dei suoi successi o alcuni dei suoi successi al Giro delle Fiandre. Uno degli ultimi grandi prima di questa generazione, appunto, Yohan Musseu, se vogliamo. C'è stato proprio il passaggio di consegna in un certo senso tra lui e Tom Bonen tra il 2002, 2003 e il 2004. Avrei una domanda per te per tornare indietro al percorso, ai differenti percorsi. Adesso è una fase un pochino interlocutoria, perché davanti c'è accordo, nel senso che Schiavanera ha detto sì, sì, io sono d'accordissimo sul fatto che tu mi porti al traguardo, io se mi va bene resto a ruota, mentre dietro è la BMC a tirare per tentare di limare qualche secondo sul Tembosse. Dicevo, parlavamo del percorso, del fatto che a te piacesse di più questa versione. Prova a interpretare il perché. Il Giro delle Fiandre, ora come ora, è forse più duro come corsa, ma è una corsa un pochino più chiusa, nel senso che si sa qual è lo snodo chiave della corsa. In questa versione c'era chiaramente il muro di Grammon nel finale, ma si potevano creare delle azioni, si poteva creare tantissima selezione già da tanti chilometri prima. Prova a interpretare questo, quello che ti... Sì, diciamo che comunque il Fiandre attuale... Abbiamo visto nel 2017 col Moor, il bellissimo attacco della Quickstep, però ecco, prima che introducessero il Moor era proprio un po' banale, non succedeva mai niente fino all'accoppiata finale col vecchio Quaremont, che è come si chiama. Tra l'altro è il Paterberg. È il Paterberg. E comunque di solito prima del Koppenberg non succede mai gran che oggettivamente non abbiamo visto dei bei Fiandre, a parte questo qui del 2017 in epoca recente. Anzi, molto spesso ci sono addirittura decisi intratti in asfalto, sia quello del 2015 che quello del 2018 con l'attacco di Terza che va a riprendere a Staccar Nibali. l'ultimo comunque prima dell'ultimo passaggio sul Quaremont c'era stata solo la rimonta di Van Der Poel da segnalare. Invece questi erano Fiandre dove qualsiasi punto poteva essere quello decisivo. Sì, sì, probabilmente non è un discorso sconclusionato quello che fai. Mi ero colpevolmente dimenticato della versione della corsa del 2017 che effettivamente non si era proprio deciso sull'ultimo passaggio sul Quaremont, sul Paterberg, ma un bel pezzo prima. In testa c'è Thomas De Gantt. Il 2011, un anno prima della sua cavalcata per andare a vincere sullo Stelvio, c'è Thomas De Gantt che lavora a beneficio di Bjorn Leuchemans. Mentre dietro abbiamo visto in un tratto di asfalto abbiamo visto Philippe Schilbert. Va detto che all'ilà della foratura, all'ilà di tutto, non era proprio granché supportato dalla squadra, non è stato granché supportato da una squadra forte quanto era forte lui in questa edizione del Fiandre. Mi è sembrato un pochino solo oggettivamente. No, infatti poi lui da quell'anno cambierà squadra, andrà in BMC. Agli Ardenne comunque avrà un Vanhendert favoloso, il miglior Vanhendert della carriera, probabilmente che sarà uno scudiero eccellente e anche Jürgen van den Broek farà la sua parte. Qui è lasciato un po' un po' da solo mentre appunto abbiamo visto a blocco la BMC, abbiamo visto una bella Vacan Soleil che ha sia De Wolder che Leuchemans che De Gantt che aveva già vinto una bella tappa alla pagina inizia quell'anno poi farà un bel tour de France spiazzandosi bene sia nell'ultimo e nella cronometro finale che sull'Alpe d'Uez. tra l'altro l'abbiamo anche commentato sull'Alpe la Quick Step ovviamente è sempre la Quick Step anche se rispetto a questa BMC un po' scompare comunque il vantaggio di Cancellara diciamo che si è stabilizzato sul minuto io al tempo di questa gara avevo 16 anni e poco più 16 anni e mezzo non avevo l'occhio di adesso non avevo notato insomma questo questo Cancellara che ha chiesto molte borracce mi viene da chiedersi se borracce d'acqua borracce anche con sali minerali e cose del genere e francamente diciamo che in questo momento della gara io tifavo Chavanel e speravo che Chavanel riuscisse a resistere in qualche modo a fare il miracolo in volata perché oggettivamente sembrava l'unico ormai in grado di poter contrastare la locomotiva di Bern sì corsa assolutamente chiusa a questo punto del suo svolgimento siamo a 21 km alla fine hanno un minuto di vantaggio Cancellara ha dimostrato di riuscire a tenersi dietro un gruppo intero è vero lo abbiamo visto vere tanto però ci aveva detto anche che ha fatto uno sforzo pazzesco perché è dai meno 43 a 44 km dalla fine di fatto che è in testa senza che nessuno gli stia mai dando un cambio e riesce appunto a tenersi alle spalle tutti gli altri per quanto concerne la Quick Step quella del 2011 fu un'annata particolarmente sfortunata mi pare che chiusero con un minimo storico di vittorie come team che portò di fatto alla necessità un pochino di ripensare tutto l'apparato della squadra eccetera 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 che poi dall'anno successivo vide una netta inversione di rotta con l'accoppiata Fiandre e Roubaix l'ultima l'ultima accoppiata Fiandre e Roubaix di di Tombone qui continua prego 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 no diciamo nel 2011 chiude l'HTC che era la squadra più vincente di quel periodo là chiude la Quick Step e loro pescarono a piena mani dall'HTC perché andarono a prendersi Cavendish andarono a prendersi Tony Martin andarono a prendersi Peter Vellic che ha un po' deluso poi un po' tanto le loro aspettative ma nel 2010 aveva fatto poi alla volta poi andarono anche a prendere un Levi Leipheimer che comunque gli garantirà qualche buon risultato e insomma hanno fatto sì un mercato poi in quell'estate lì nell'estate del 2011 veramente consistente complice però appunto la chiusura della squadra a faro di quel periodo storico là siamo al meno 19 dalla conclusione sono ancora 53 secondi di vantaggio non è che lo faccio per per sottolineare il niente sono dati che avete a disposizione tutti chiaramente voi che state vedendo questo video ma tendo a sottolineare perché quello che succederà di qui a qualche chilometro è veramente molto singolare nel senso che il vantaggio si mantiene comunque molto alto dietro c'è un gruppo che sembra inseguire pancia a terra ma non riesce a limare che pochi secondi dal due di testa e infatti come hai detto tu prima c'era per i non tifosi di cancellare solo da sperare che Scevane riuscisse a tenerne la ruota e inventarsi qualcosa di assolutamente clamoroso per una volta Luca non te la faccio la domanda su chi fosse secondo te a questo punto della corsa il favorito me la risparmio mi risparmio la figuraccia anche perché l'ho ripetuto ormai a più riprese qui si sta andando verso il muro però qua il suo vantaggio inizia a calare un pochettino perché siamo passati dal minuto dai 55 secondi a un minuto siamo passati a questi 50 secondi cancellare che continua anche adesso a bere e sta accadendo qualcosa poi in realtà non si è mai spiegato bene non si è mai spiegata bene quella crisi che ha avuto che avrà tra pochissimi chilometri non si è mai capito bene cosa è successo infatti anche adesso riguardando la nota effettivamente tutte queste ecco che ne ha preso un'altra intanto di borraccia noto che effettivamente sta bevendo tanto e chissà chissà cosa è realmente accaduto in questi ultimi 20 chilometri del Giro delle Fianere del 2011 sarà curioso è veramente qualcosa che è particolare non ci avevo mai fatto caso ma sarà la quarta borraccia che gli vediamo prendere in quanto 10 chilometri al massimo cioè da dopo che ha raggiunto Chavanel si è messo in testa ha iniziato a tirare e poi pian piano ha iniziato sempre più a chiedere acqua ha mancato una borraccia questo me lo ricordo c'è un dettaglio precedente nel video in cui cancellare appunto che manca una borraccia volante da parte da parte di un massaggiatore e a questo punto quelli che erano 55 secondi di vantaggio due chilometri fa diventano 42 improvvisamente queste sono immagini che se avete visto il Giro delle Fiandre conoscete sicuramente siamo all'inizio del Murwanger Ratsbergen ma anche se avete visto la Omlop e Newsblad nelle ultime stagioni o se avete visto l'Eneco Tour perché oramai è anche sede dell'ultima tappa dell'Eneco Tour si passa dietro la chiesetta si inizia con il tratto in pave ma poi ci si inerpica verso la verso la cappella il capo e il muro appunto che salita è questo muro di Granmona beneficio di chi non lo conoscesse beh è uno dei due muri più duri che che le Fiandre possono offrire insieme al Koppenberg e a livello scenografico è il più bello di tutti perché comunque si la chiesa è insieme poi guarda che trionfo di pubblico ai lati ancora non siamo entrati comunque nel punto clou e qui Cancelara sta perdendo veramente tantissimo qui sta andando molto piano è quasi fermo e secondo me a lui gli è anche andata bene che lo riprenderanno praticamente allo scollinamento perché se l'avessero ripreso qua probabilmente si sarebbe staccato definitivamente perché qui è veramente in crisi intanto vediamo Nuyens qui in maglia Saxo che sta arrivando dalle prime posizioni c'è Gilbert in maglia Raboban che credo sia sempre il solito Langevel che abbiamo detto aveva fatto un ottimo inizio di stagione e qui ormai Cancelara è in crisi è in crisi e anche Chavanel è un po' perplesso perché adesso cosa fai continui a restare a ruota provi a scattare a partire in contropiede è una situazione complessa anche per lui ed è una situazione veramente inaspettata cioè ma due chilometri prima nessuno avrebbe pensato il gruppo va a riprendere Cancelara cioè sembrava davvero finita sì sì sembrava sembrava finita la corsa cioè poi nel senso poteva succedere le corse del nord può sempre succedere di tutto in termini di inconvenienti di natura tecnica eccetera 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 ma qui si pensava che questa potesse essere veramente una corsa andata per la vittoria dietro uno sfortunato ma comunque capabile Gilbert a questo punto va proprio all'inizio del tratto più duro ma quando oramai siamo già quasi in cima va a riprendere Cancelara questo è effettivamente il pezzo più duro della salita quello con le pendenze al 20% vediamo che c'è un flecia molto brillante chi paga a questo punto è Langeveld che prima si era portato in testa buone dietro non sembra in formissima qui Cancelara dopo non so se ha rifiatato ma qui ritrova ancora vigore la sua azione cioè guardate comunque riesce a arrivare in testa alla salita cioè una volta che è stato ripreso pur accelerando i corridori dietro non sono più riusciti non sono più riusciti a sopravanzarlo quindi comunque aveva ancora un colpo in canna il punto è che quel colpo ce l'aveva anche Chavanel alle sue spalle nel senso che il francese ok è stato a ruota tutto il tempo ma non gli ha mollato la ruota di un solo centimetro questo bisogna darne atto di questo al corridore francese appunto si qua abbiamo Cancelara Chavanel poi subito dietro Gilbert Ballin mi pare sia lui Gilbert Ballin Leuchemans e anche Nuyens poco più dietro Bonen invece adesso Nuyens non lo vediamo ancora però dovrebbe essere appena qua dietro non abbiamo Bonen invece era con il mitico staff Shirelings uno dei corridori con il nome più complicato da scrivere in assoluto si c'erano un sacco di K di X e di C o qualcosa del genere ma scusa si si dicevo Nuyens ha mollato le ruote dei primissimi proprio in cima al mur si si è Ballin perché lo riconosciamo anche dalle strisce iridate sulle maniche però anche qui troveranno poco accordo questo gruppo le riconosce va veramente veramente forte però è un corridore che non è mai riuscito ad avere quel quid in più per provare a vincere qualcosa di importante si diceva il centesimo per fare la lira il problema dell'accordo qui probabilmente dipende dal fatto che allora Chavanel ha un compagno di squadra il più veloce di tutti dietro Cancellara ha tirato per se prima erano 20 adesso sono 25 km i tre dietro i tre che li hanno ripresi comunque sono interessati a tirare ma nel momento in cui vedono due corridori che non danno il il 100% un pochino magari tengono riserva il più convinto sembrava in quel tratto sembrava Gilbert lo vedremo anche tra poco sul Bosberg che è probabilmente quello che ha il colpo in canna in più rispetto rispetto agli altri la corsa comunque è ancora molto aperta è aperta a questi cinque avanti ma anche al gruppetto dietro il gruppetto dietro che lo vedete adesso nelle immagini è staccato di pochissimi secondi difficile rientrare sul nel tratto dopo il muro di Grammona anche se si è perso se si è perso poco terreno però questa appunto è una circostanza molto particolare perché davanti si sta facendo fatica a trovare accordo e anche i corridori che sembravano più freschi cimo al mur non è che abbiano fatto vedere chissà che cosa ecco che rientra anche il tuo vincitore medio di Tour de France Geraint Thomas che prima di essere un corridore per corse a tappe era anche un ottimo corridore per corse di un giorno sì abbiamo con lui anche la gestione della BMC sarebbe un attimino da analizzare perché avevano davvero mille uomini però non combineranno praticamente nulla in questa gara intanto si sta per iniziare il Bosberg salita cara a un devolte vincitore del Giro delle Fiandre Edwig van Oydon che infatti era chiamato anche Eddie Bosberg perché era solito fare la differenza su questo muro che non è il muro di Gramon ovviamente però è comunque un bel muro un muro tosto ed è l'ultimo trampolino di lancio per provare a vincere la corsa di forza diciamo così non involata con eventuali fagianate sì esatto poi nel finale ci stanno ci sono nel finale della corsa c'erano spesso volentieri attacchi mi ricordo ad esempio Fiandre vinto da Tafi nel 2002 2002 arrivò un attacco proprio dopo il Bosberg o forse anche il primo di Bonen arrivò da solo nonostante fosse più veloce azzardò l'attacco perché voleva arrivare da solo e se ne andò proprio dopo il Bosberg curiosa sorte perché dopo il Bosberg non si rientra dopo il Bosberg non si rientra e invece siccome quella è la regola ci vuole l'eccezione adesso vediamo cosa succede perché siamo proprio all'inizio della salita la salita inizia piano e cioè piano nel senso è lieve è un falso piano che pian piano si inerpica su quella collina entrando nel bosco che vedete adesso di fronte ai corridori mentre Guerin Thomas a questo punto che tira per Flecia immagino a questo punto a Ballan hanno dato disposizione infatti abbiamo visto che dopo la prima tirata ha smesso di aspettare incapi secondo me non una gran scelta perché se giravano un po' andavano questi sei qui intanto qui Gilbert inizia il muro e subito lui porta il suo attacco si ecco entrati nel bosco appunto inizia il pezzo in pavè non è lunghissimo ma è piuttosto regolare e ci sono anche delle belle delle belle pendenze qui c'è Gilbert sembra riuscire a fare a fare il vuoto esce dalla ruota di Leukemans cancellara e ti aspetti che esca per saltare Leukemans e invece invece no e invece cancellara si pianta letteralmente a questo punto della corsa e qui pensi che la corsa per cancellara sia onestamente finita Ballan posso dirlo ha perso il momento sì no qui pensi che Gilbert perché è partito subito all'inizio del muro è subito staccato gli altri pensi che Gilbert qui ormai sta andando a vincere il giro delle fiandre tanto cancellara ormai qui con Scheerling sembra veramente alla deriva Ballan qui ha fatto una grande azione Ballan ha fatto una grande azione Ballan una volta parlandoci insieme mi disse che secondo lui se Gilbert lo avesse aspettato sarebbero andati loro due al traguardo però è anche vero che comunque l'azione di Ballan qui che è stata un'azione comunque importante è servita un po' a tamponare l'azione di Gilbert perché senza Ballan Gilbert prendeva un po' di margine in più e secondo me diventava un bel po' più difficile da andare a riprendere sì sì hai perfettamente ragione probabilmente l'azione di l'azione di Ballan ha contribuito a far sì che poi Gilbert venisse raggiunto perché comunque dietro aveva perso inerzia il gruppetto inseguitore proprio nel momento in cui cancellara era di fatto saltato per aria dal punto di vista delle delle energie che aveva a disposizione e Ballan in un certo senso ha fatto da punto di riferimento tra gli inseguitori e Gilbert non so se anche tu la vedi così sì 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 e adesso vediamo qui Gilbert forse vedendo che Ballan comunque era lì dietro poteva un attimino tirare i freni e provare a vedere cosa succedeva aspettando perché Ballan è lì è a è a pochi metri alla fine qui cancellara comunque ha di nuovo ripreso ha di nuovo ripreso vigore la sua azione sta dimostrando un grandissimo una grandissima capacità di recupero nel breve perché già l'abbiamo già dato per morto due volte e invece si è subito ripreso allora i su e giù che ha fatto in questi cinque chilometri tra l'ingresso di Gerardsberger e il tratto di falso piano indisceso dopo il Bosberg cancellara sono onestamente qualcosa di inspiegabile perché allora ha iniziato il mur sembrava che non andasse avanti onestamente pure Chavanel sulla sua ruota era un pochino spaesato l'hai detto anche tu in cima alla salita quando è stato ripreso dai migliori è riuscito a dare una strappata tale da non farsi poi sopravanzare definitivamente ha scollinato il muro in testa di fatto anche se ha consumato tutto il suo vantaggio nella prima parte della salita è arrivato al Bosberg è uscito dalla ruota di Leukemans che sembrava dovesse fare la sua la sua mossa spaccare ancora il mondo letteralmente non andava più avanti in cima alla salita non non ce la faceva non ce la faceva proprio più a distanza di due chilometri lo vedi che da solo con Sherlings a ruota riesce a rientrare sugli inseguitori e si mette a tirare è qualcosa di veramente inspiegabile quello che è successo a cancellare in questi chilometri Gilber ha fatto un'azione favolosa sul Bosberg però qui si è sostanzialmente capito che non avrebbe vinto il giro delle fiandre perché dietro sono in sono in cinque lo vedono collaborano e per lui ormai non c'è non c'è granché da fare chiaro e lì viene da chiedersi cosa avrebbe potuto fare più di così Gilber perché comunque Gilber se riusciva a portare via quel gruppetto lì con cancellara leukemans ballant e chavanel poteva tranquillamente anzi sarebbe stato il favorito in caso di sprint sarebbe la giocata lui e cancellara però cancellara era più stanco invece qui poi gli dirà male che oltre a questi sta arrivando un altro gruppo che rientra da dietro e a quel punto per lui sarà veramente la fine sì dietro rientra il gruppo con con Nuyens con con Thomas Bonen esatto e a questo punto anche anche chavanel avrà un interesse doppio da un certo punto di vista a tirare dietro di lui però te lo dico io cosa poteva fare perché gli andasse gli andasse tutto bene a Gilber poteva non forare i meno 50 meno 45 quando ci siamo collegati quello sicuramente quello sicuramente sarebbe stata la sua winning condition chiamiamola così perché avrebbe seguito cancellara molto probabilmente anche vedendo che gamba che aveva e sarebbe riuscito a giocarsi la gara con il solo svizzero visti gli alti e bassi di cancellara probabilmente l'avrebbe portato a casa così poi lui è stato anche un po' dimmi dimmi no dicevo che tra l'altro c'è proprio la gamba che aveva è vero che è difficile inseguire dopo questo tratto ma una delle regioni per cui è difficile inseguire dopo il Bosberg è che spesso volentieri ci ha avuto a favore nelle corse si nota spesso con l'azione delle bandiere e i gruppi che inseguono non riescono ad organizzarsi qui nonostante ci sia un cancellara che appunto era il favoritissimo numero uno della corsa proprio per il fatto che aveva avuto questi alti e bassi durante gli ultimi chilometri probabilmente avevano trovato subito l'accordo i cinque inseguitori una volta una volta ripresi c'è nessuno si è risparmiato aggettivamente nel tentativo di andare a riprendere un Gilberto cui richiudono proprio ora sì poi all'epoca non c'era ancora all'epoca nella chiesione fa comunque in quel periodo lì non c'era ancora questa mentalità che vediamo adesso dove nessuno vuole dare un cambio dove tutti hanno paura di essere quelli che lavorano di più e di avere a ruota gli altri che fanno i furbi qua si è detto com'è che possiamo vincere sta corsa per prima cosa dobbiamo riprendere Gilberto perché se no riprendiamo Gilberto non vince nessuno e quindi si sono organizzati subito sono andati a a riacciuffarlo ma a me dispiace un po' perché secondo me se la meritava comunque Gilberto era stato sfortunato gli ai 45 chilometri aveva fatto una bellissima azione già sul muro perché aveva chiuso lui su cancellare poi sul Bosberg aveva veramente una gamba spaventosa e gli è mancato anche a lui è mancato il centesimo per fare la lira ed è anche mancato una squadra abbastanza forte come dicevi tu all'inizio che potesse effettivamente tutelarlo un po' meglio perché sai avere un compagno in un gruppo in seguitore quello sì avrebbe potuto far desistere gli altri dall'idea di collaborare insieme siamo intanto ai 7 dal traguardo c'è stato il rincongiungimento avete visto i 12 nomi che ora sono al comando della corsa un dettaglio secondo me significativo è che a questo punto di gare del genere quando c'è un gruppetto di una quindicina di corridori è veramente difficilissimo che si arrivi al traguardo in volata perché ci sono troppi interessi differenti che è un dettaglio che può essere rilevante anche per quanto hai detto tu precedentemente sull'atteggiamento dei corridori che una volta come se fosse cento anni fa e non nemmeno dieci comunque che una volta non 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 erano così resti a passare al condo perché questa qua è una situazione veramente aperta a tutti cioè non è una situazione in cui Bonen è il più veloce quindi nove volte su dieci questa corsa la vince Bonen assolutamente no mentre qui c'è un attacco deciso di Ballan che è arrivato però Gilbert ancora una volta ha le gambe per andare a chiudere sull'italiano questa sarebbe stata un'azione molto interessante se Gilbert non avesse mangiato subito la foglia si sono fatti un po' gli spettucci perché appunto come abbiamo detto Ballan comunque sul postberg è stato fondamentale cioè non voglio dire che Gilbert l'hanno ripreso in meno 8 quindi magari lo riprendevano lo stesso però indubbiamente un Ballan che è riuscito a evitare che Gilbert dilagasse che è rimasto poi lì un po' a fare da punto di riferimento a quelli dietro a dare morale anche un po' quelli dietro che avevano un corridore davanti lì da riprendere ha indubbiamente danneggiato un pochino l'azione di Gilbert e Gilbert gli era voluta un attimino far pagare qua secondo me Dettaglio non so fino a che punto di rilevante ma chi è scomparso dalle posizioni di testa della corsa comunque a questo punto è quel volpone di Fabian Cancellara che ok starà avendo tutti i suoi alti e bassi ma è pur sempre il corridore con la sparata in 3 km per arrivare al traguardo e portarsela comunque a casa la corsa se riesce a rifiatare un attimo qui questo non è un dettaglio da poco la corsa svolta nel senso che ci si sposta anche rispetto a quella che è solitamente la direzione del 20 ci si sposta su una strada più larga una strada più larga che offre più possibilità di spostarsi da un lato o dall'altro della carreggiata e arrivare al traguardo so se vi ricordate la Newsblood del 2018 la prima con questo tipo di finale e la vittoria di Luzenko arrivò proprio in un tratto del genere il suo allungo 2018 no scusa Valgren non Luzenko ma anche l'anno dopo Stibar attaccò esattamente in questo tratto più avanti quando è ancora più aperta la corsa dopo quel dopo quel ponte che affrontano che affrontano proprio ora perché c'è normalmente vento di traverso cioè se prima era a favore e c'è questa carreggiata molto larga ci sono anche delle aiuole si riesce un pochino a giocare anche con la disposizione tattica dei corridori sulla strada credete un pazzo che tenta di farsi investire da fleccio intanto c'è l'attacco di Langlois abbiamo visto un Nuyens che resta furtivo in coda che cerca un attimino di studiare anche gli avversari d'altronde Nuyens è comunque uno dei più veloci qui dopo dopo Bonen ecco sarebbe stato interessante vedere cosa succedeva se Gilbert fosse riuscito ad arrivare da solo con un'avanzata dei secondi su quelli dietro in questo tratto qui comunque Cancellara eccolo che arriva e guarda e Nuyens l'aveva seguito subito in maniera lesta dalla sua ruota e c'è anche un grande Sylvain Schallone comunque la sparata di Cancellara fa veramente paura perché Bonen invece si è fatto sorprendere e qui si è decisa la gara Bonen doveva stare un po' più attento a Cancellara diciamo che dal punto di vista tattico non ne ha presa una in questa in questo giro delle finale no non ne ha proprio presa non ne ha proprio presa una come avevo detto non mi ricordavo che Cancellara si sarebbe spostato dall'altro lato della carreggiata per lanciare il suo attacco ma ha fatto così ha sfruttato proprio un'aiuola Bonen aveva un corridore da curare di fatto non so se avete notato anche nei chilometri precedenti ma era sempre stato Chavanel della quickstep a chiudere sugli attaccanti cioè il primo a riportarsi sotto quando era un quando doveva essere un quickstep a chiudere Bonen di fatto aveva gli inglesi dicono you had one job per dire dovevi fare una cosa e non sei riuscito a fare nemmeno quella e purtroppo per lui in questo caserno non è riuscito a fare nemmeno quella non che sia la cosa più semplice del mondo stare a ruota di Cancellara però almeno curarla cioè farti staccare perché quell'altro è più forte non farti staccare perché perdi la ruota in un momento poi così topico a 4 km dal termine dove si sa che Cancellara proverà la sua ultima cartuccia e adesso gli altri due fiutano che Cancellara comunque ha tirato tanto e tanto stanco a questi su e giù capiscono che c'è l'occasione di andare a vincere il Giro delle Fiandre e improvvisamente anche Chavanel e Luiz sono interessati a dargli i cambi sì intanto dietro ha combinato ha combinato la frittata la BMC perché due uomini e nessuno che sia stato abbastanza lesto da inserirsi in questo prognozionino soprattutto c'è da dire che la la corsa di Incapi a me sembra abbastanza incomprensibile onestamente cioè è sempre rimasto lì e non ha fatto niente anche Ballan prima lo ha aspettato si è fermato ad aspettarlo ma conti fatti perché cioè Ballan era in una situazione molto più comoda prima piuttosto che col ricongiungimento che ha riportato dentro Incapi però ha riportato dentro altri 5-6 corridori sì hai perfettamente ragione io di Incapi in questa corsa mi ero completamente dimenticato cioè mi ricordo bene o male di tutti gli altri personaggi che sono arrivati in questo finale l'unico che ha effettivamente avuto una corsa anonima c'è anche adesso Flecia per dire lì dietro sta attaccando sta provando l'ultimo tentativo per riportarsi sul terzetto che comanda la corsa ma l'unico di cui proprio non ricordavo la presenza era Georgi Incapi cioè non che sia una critica cioè nel senso si è mosso male in corsa più che altro è stato anonimo ecco non è che si è mosso male peggio per lui e per la sua squadra comunque Ballan aveva provato in precedenza ha fatto anche una bella ha provato una bella stoccata in meno 7 forse un po' lungo ma è stato Gilbert lì a chiudere adesso arriviamo sul rettilineo sul rettilineo finale volata lunga e leggera salita te la lascio commentare qua intanto parte Bonen che fa e farà un'azione strepitosa però è partito in ritardo in ritardo di un chilometro perché poteva provare un attimino a riportarsi sotto certo è che lui e Chavanel si sono sostanzialmente pestati in piedi per tutto il giorno qui cancellara lancia lo sprint però qua si è piantato sul più bello si è piantato proprio agli ultimi 50 metri gli ultimi 75 metri si è piantato infatti lo passerà anche Chavanel però è una vittoria comunque abbastanza in scioltezza per Nuyens se fossero stati altri 30-40 metri in più forse Chavanel poteva anche insidiarlo però alla fine diciamo che Nuyens ha fatto tutto bene ha preso la ruota di cancellara lo sprint e lo ha saltato al momento giusto ed è andato a vincersi comunque meritatamente un giro delle fiandre in cui lui è sempre stato tra i primi pur rimanendo abbastanza nascosto fino al momento clou te lo chiedo ma chi beep è Nick Nuyens lo so che lo hai detto all'inizio di questa telegramma ma io vivo per ricordare questo grandissimo momento con Alessandra De Stefano che all'arrivo si lascia scappare una battuta a microfono aperto che è veramente qualcosa di clamoroso e che metterò come sigla di questa di questa di questa nostra di questo nostro video quindi state collegati assolutamente fino alla fine perché è importantissimo chi beep è Nick Nuyens si diciamo che lei probabilmente pensava di non essere microfonata in quel momento però appunto come abbiamo detto Nuyens un corridore che ha vinto l'adversa d'Orvlander nella settimana prima in carriera ha vinto un'altra classica molto importante anche se adesso è un po' decaduta quale era Parigi-Bruxelles tra l'altro battendo un giovanissimo Filippi Gilbert ha vinto l'At-Volk ha vinto la Courne-Bruxelles-Courne ha vinto più volte il Gran Premio di Vallonia e dopo questo 2011 purtroppo avrà tanti problemi fisici non riuscirà più a prendere parte al Giro delle Fiandre il Giro delle Fiandre in cui appunto aveva già fatto secondo nel 2008 settimo nel 2007 e l'aveva vinto tra gli Under-23 peraltro uno dei pochi corridori a riuscire a vincere il Fiandre sia tra i Pro che tra gli Under-23 Meglio come corridore che come General Manager dai possiamo dirlo senza paura di sbagliare non so chiediamo a voto a Nart ma sono abbastanza sicuro che sia d'accordo con noi Cancellare è stremato Cancellare è letteralmente stremato non so se ad avere l'occasione di intervistarlo gli chiederei intanto se è stata probabilmente la corsa più dura della sua carriera perché effettivamente ha fatto centomila sforzi e che cosa ha pensato negli ultimi cinquecentometri perché in un paio d'occasione è sembrato veramente averla in tasca la gara e poi dopo non è riuscito non è riuscito a portarla a casa ma soprattutto ai quindici chilometri dal traguardo sembrava l'ennesimo a solo di Fabian Cancellare su queste strade sì e poi appunto bisognava chiedergli il perché di tutte quelle borracce che è stato sono stato un po' il segnale che potesse succedere qualcosa io francamente non me ne ero mai accorto prima anche perché la gara l'avevo vista in diretta nel 2011 poi non l'avevo più rivista però se ne ho dato proprio questo dettaglio di cancellare che a un certo punto ho iniziato a chiedere borracce su borracce come se effettivamente ci fosse qualcosa che non andava ecco sì sì magari si trattava adesso non ricordo se la giornata non era piovosa magari faceva anche relativamente caldo per le classiche del nord poteva aver sofferto un po' di disidratazione domanda da un milione di euro cioè se fossi stato Gilbert non avrai forato ai meno 45 io rispondo per la parte facile se tu fossi stato cancellare a cosa avresti fatto di diverso ma sostanzialmente niente lui ha fatto ha fatto tutto bene cioè deve aver sbagliato qualcosa non lo so a livello di digestione magari prima magari di alimentazione o ha bevuto poco però a livello tattico intanto qui vediamo comunque la volata di Nuyens che ha vinto per mezza ruota su Chavanel a livello tattico non ha sbagliato niente insomma lui l'azione da lontano nelle corde ce l'aveva poi anche qua nel finale si è mosso bene ecco è partito un po' lungo alla volata però lui ha la volata anche di 250-300 metri ce l'aveva anzi a maggior ragione essendo un grande cronoman poteva aver senso per lui partire lontano dal traguardo perché comunque riesce a tenere un'andatura alta e costante per più tempo rispetto ai rivali invece si è un po' piantato però rispetto non possiamo anche metterci qua a questionare la volata di Cancellara lui ha fatto quel che doveva fare due volte perché ha fatto bene a partire a 40 km dall'altra guarda tra l'altro quando l'uomo più pericoloso per lui comunque era Gilbert che era il più in forma insieme a lui aveva avuto un problema meccanico è partito al momento giusto ha portato via il tentativo giusto nel finale però evidentemente deve essere andato storto qualcosa prima intanto qua vediamo Bjarne Ries che fino all'anno prima era il direttore sportivo il team manager anzi Cancellara Cancellara che era andato via dalla Saxo Bank per seguire i fratelli Shrek alla Leopard Track e lui aveva preso un Nuyens da rilanciare dopo un bienio un po' così secondo Fiandre di fila per Ries ma secondo me un dettaglio sulla sulla volata di Cancellara ha a che fare con il fatto che una volta svoltato per entrare nel rettilineo finale si è girato e ha visto arrivare Tom Bonen che stava facendo quella sparata che tu che tu hai detto ed è vero che Bonen è arrivato a un paio di secondi poi dai primi tre non è arrivato allo stesso tempo però se prende la scia perché nessuno alza la velocità davanti se poi sente la scia riesce magari a rifiutare quei due tre secondi che sono fondamentali per riuscire a vincere a vincere effettivamente la corsa secondo me è stato anche quello un momento determinante del finale cioè Cancellara che era quello effettivamente con gli strumenti per lasciarsi alle spalle Bonen Nuyens era disposto a rischiare tutto per tutto e Schiavan sicuramente non non disdegnava il rientro di un compagno di un compagno di squadra diciamo che magari aveva un po' paura che succedesse quello che è successo all'Amstel dell'anno scorso perché sai se un Bonen ti arriva da dietro a doppia velocità è un attimo poi che ti salti poi lancia la volata cioè sì era un corridore che da quel punto di vista poteva avere uno sprint alla Mathieu Van Der Poel che arriva lì anche perché sai sì è una volata lunga però per un attimo comunque prendi la scia degli altri poi arrivi anche sull'onda dell'entusiasmo perché stai rimontando e comunque sei quello anche con lo scatto più potente diciamo che con uno scatto Bonen ti arriva da dietro e ti salta ti può prendere subito quei due tre metri che poi non riesce a rimontare quindi sì sicuramente l'azione di Bonen ha anche spaventato Cancellara però nel complesso io francamente a cancellare delle colpe appunto dal punto di vista tattico non riesco a trovargliene no ma sono assolutamente d'accordo con te in realtà era una domanda cazziosa la mia sai è una cosa di 250 km probabilmente quando noi non abbiamo visto probabilmente in quelle fasi in cui pensiamo non succeda mai nulla lui deve aver sbagliato qualcosa ora visto che stiamo cazzeggiando verso il finale di video che tappa ha vinto del giro Dave McKenzie tu che hai una memoria storica sicuramente migliore della mia e sicuramente migliore di un sacco di persone che conosco per quanto concerne il ciclismo Dave McKenzie è questo signore qua che sta parlando adesso nelle nostre immagini McKenzie ma stavo stavo facendo lo scemo non ti preoccupare no sto provando a ricordare a metterlo a fuoco perché Dave McKenzie è una rete australiana questa vero si si questa è una rete australiana nel 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 commento originale si sente l'accento avrà vinto proprio al giro sai si si ha vinto al giro ma che tappa ti stavo chiedendo c'era scritta è passato sotto scritto giro d'italia stage winner però non hanno non ci dicono quale vabbè dai vedo vedo che ha vinto una tappa a teramo nel giro d'italia del 2000 francamente non me lo ricordavo porca miseria ma mai nella vita proprio vasto teramo settima tappa del giro del 2000 andavo ancora all'asilo quindi bene e quindi ora che sappiamo anche questa importantissima notizia su quando Dave McKenzie ha vinto il ha vinto la sua tappa al giro d'italia io Luca ti ringrazio tantissimo per la compagnia per il commento e mi levo un virtuale cappello per la cosa delle borracce di cancellara che è veramente un dettaglio importantissimo per la valutazione di questa corsa grazie mille grazie a te grazie a te grazie ai nostri spettatori che ci ascoltano e do appuntamento li saluto e do anche io appuntamento alla prossima telecronaca esatto noi ci sentiamo per la prossima telecronaca non sappiamo ancora di che cosa ci occuperemo ma lo scopriremo e lo scoprirete anche voi io vi ricordo come sempre che potete mettere mi piace a questo video potete condividerlo se appunto vi è piaciuto sul nostro canale ci sono tutti i nostri video commenti e tutte le cose che stiamo facendo al prossimo episodio come detto a presto ciao ciao